Sta per prendere via un importante progetto formativo incentrato sul business development nel settore della salute. Questo percorso formativo si chiama Business Development Academy ed è organizzato congiuntamente da HLG, dall'Italy Healthcare Licensing Group, quindi dal gruppo di professionisti che si occupa specificamente nel proprio lavoro del business development e dal Dipartimento di Scienze Aziendali e Economiche dell'Università di Pavia. Ne parliamo con i protagonisti per farci raccontare esattamente di che cosa si tratta. Cominciamo con il dottor Lorenzo Pradella, General Manager di Zeta Cube, un incubatore italiano impegnato nel settore farmaceutico e presidente di HLG dell'Italy Healthcare Licensing Group. Allora dottor Pradella innanzitutto prima di entrare nel merito del progetto ci può dare una definizione del business development? Che cos'è esattamente? Business development è la leva fondamentale che le aziende hanno per sviluppare opportunità di business che in buona sostanza si traduce nel cogliere le opportunità che si presentano nei settori specifici, valorizzarle e creare opportunità di crescita per le aziende. Non ultimo è un settore che si sta anche trasformando sempre di più nell'ottica dell'imprenditorialità e come si vedrà in seguito è uno anche degli sbocchi fondamentali che intendiamo perseguire con la BD Academy. Che cos'è esattamente la BD Academy? BD Academy è il primo esempio in Italia di scuola dedicata alla formazione professionale in quest'ambito specifico del business development che si basa sulla collaborazione tra mondo industriale e nella fattispecie Italy HLG e mondo accademico e in questo caso l'Università di Pavia. Dove si svolgono i corsi? I corsi si terranno presso Open Zone che è il parco scientifico di Zambon farmaceutici a Milano e quindi beneficeranno anche di questo ambiente dove tutti i partecipanti diciamo così respireranno aria industriale e quindi saranno sempre più calati nel contesto specifico del business development. Perché HLG ha deciso di supportare anche dal punto di vista organizzativo questo progetto così importante? Qual è il vostro ruolo? Beh, la formazione è la missione più importante di HLG. HLG è l'associazione italiana dei professionisti che si occupano di business development nel settore della salute e quindi niente di meglio che riuscire a trovare come sbocco una scuola di formazione professionale ad alto livello in grado di competere con altri esempi che esistono a livello internazionale proprio per fornire gli strumenti specifici in questo settore. L'altro protagonista della BD Academy, lo abbiamo sentito, è l'Università di Pavia e ci facciamo raccontare appunto il ruolo dell'Università dalla dottoressa Valeria Lorenzi, ricercatrice del Dipartimento di Scienze Economiche e consulente per le start-up. Qual è il ruolo dell'Università che normalmente immaginiamo più dedicata appunto alla didattica o a tematiche magari anche un po' teoriche alle volte, quindi invece i temi sono molto concreti. Sì, molto vero. Diciamo che l'Università di Pavia ha raccolto questo invito, questa sfida che è venuta da HLG Italy un po' per caso, ma diciamo che siamo riusciti a trovare una buona sintonia soprattutto per i contenuti, perché tutti quanti nel nostro Dipartimento si stanno occupando di temi molto molto nuovi, tra cui il business development che insieme al professor Stefano De Nicolai appunto stiamo un po' sviluppando. Quindi ecco, l'approccio dell'Università tende proprio a andare nel pratico sempre di più, soprattutto appunto nel nostro Dipartimento. Bene, ci racconti appunto come è organizzato, così lo capiamo meglio questa BD Academy. Allora dunque, la Business Development Academy è organizzata in dieci giornate formative che si organizzano all'interno di un percorso che è centrato soprattutto sul management e sul business. Che cosa vuol dire? Vuol dire corsi che insegnano a come sviluppare un business plan, come gestire la proprietà intellettuale, che è molto importante appunto nel settore life science e anche come gestire le alleanze che appunto sono centrali nel business development. E chi sono i docenti del corso, dottoressa? Allora, i docenti sono sia professori universitari che professionisti del mestiere. Quindi i professori sono dell'Università di Pavia, dell'Università di Varese, anche dell'Università di Milano e i professionisti sono manager o comunque altri dirigenti di aziende farmaceutiche italiane, come per esempio il professor Eugenio Ringhieri, che è amministratore delegato di Dompe. Senta, lì è stato diverso tempo negli Stati Uniti per preoccuparsi di business development dal punto di vista teorico, ma non solo. Cosa porta della sua esperienza americana in questo progetto? Allora, dunque, io ho terminato il mio percorso di dottorato di ricerca all'Università di Harvard, alla Business School e insieme a un professor Gary Pisano abbiamo appunto trovato un bel inquadramento del business development nell'ambito internazionale. Quindi abbiamo sviluppato delle interviste anche a aziende come Merck, piuttosto che Shire, che sono molto brave nel business development e ci hanno supportato appunto nella nostra ricerca. I partecipanti del corso, alla fine, che cosa porteranno a casa concretamente? Allora, sicuramente delle nozioni rispetto a come gestire un'azienda, quindi in generale il business plan, piuttosto che il modello di business da adottare rispetto al tipo di azienda e al tipo di attività che l'azienda svolge. Poi, soprattutto, per quanto riguarda il business development, è importantissima la tematica della gestione della proprietà intellettuale. Come sappiamo, il business development si occupa anche di aumentare le possibilità di crescita dell'impresa attraverso collaborazioni con entità esterne e quindi la gestione della proprietà intellettuale è molto importante in questo, oltre alla gestione dell'alleanza stessa. Quindi quando si va a fare in licensing, out licensing con altre imprese, è importante saper gestire il processo. Quindi sicuramente questi sono i temi focali. Per finire, sentiamo il punto di vista di una persona che si occupa tutti i giorni di business development, che quindi questo settore lo conosce molto bene, che è il dottor Giorgio Amadori, amministratore di Phoenix Italia Consulting e vicepresidente di HLG. Allora, dottor Amadori, l'abbiamo appena accennato, ma chi si rivolge esattamente alla BD Academy? BD Academy si rivolge a business development manager con volontà di approfondire la propria preparazione e a neolaureati che intendono perseguire questa strada nel loro sviluppo, diciamo, professionale. Quindi anche chi non ne sa nulla, che è una formazione universitaria, che però è interessata a questo settore, potrebbe partecipare anche lui? Assolutamente, sì. Basta per avere ulteriori informazioni collegarsi al sito e tutto questo è spiegato sufficientemente in sintesi. Senta, voglio anche sapere qual è il ruolo delle imprese, non solo farmaceutiche, ma più in generale imprese che si occupano di salute, quindi anche per esempio quelle che lavorano nel settore dei dispositivi medici. HLG è aperta a esperienze non solo nel farmaceutico, ma anche nel mondo dei medical device, delle biotecnologie, della nutraceutica. Il programma verrà affrontato assolutamente in termini healthcare, quindi farmaceutico, medical device, tutte le varie componenti dell'healthcare. Per finire, dottor Amadori, che messaggio possiamo lanciare ai giovani? Cosa possono trovare nella BD Academy? Anche uno strumento, un trampolino per entrare nel mondo del lavoro? Assolutamente, sì. E' nel programma la disponibilità di almeno 5 stage, quindi per dar modo ai discenti che si segnaleranno nel corso del percorso di studi di frequentare per alcuni mesi esperienze dirette in azienda. e verranno dati strumenti per chi, nell'ambito di questo gruppo, abbia intenzione di anche sviluppare esperienze di imperialità in proprio. Quindi sto parlando dell'argomento delle start-up, di cui molto in questi giorni si sta parlando, anche a livello di legislazione. E di cui in Italia c'è tanto bisogno. Assolutamente. Assolutamente.